ho comprato tutto sì ho comprato il pane latte e l'acqua minerale sì leggermente vabbè effervescente naturale è quella quella che te bevi sempre aspetta aspetta amore te devo ricamare se te lo fanno altro serve è un collega sì saluta lo siamo un bacio interiore fratello sempre forza roma dai ciao dai ma ci fa la telecamera se non sbrigare da 10 minuti inizia la riunione sbrigiamo guarda 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 pure sulle strisce scuffa aspetta 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 mo mi devo fare un altro serve un altro serve te giuro te giuro questo c'è la carrozzina mo non ti posso dire no non sei secondo a nessuno ti ricamo subito ciao 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 ma tu sei dalino tanti che fai orgogliosi di nuovo daniele del disabiliti pride scusami del disabiliti pride e quelli che hai carrozzine non solo carrozzine i sordi i muti i ciechi i ciechi i sordi i muti eppure quelli col disagio psichiatrico come te stai ancora sulle strisce oddio se vuoi levami mi devi perdonare mi sono fermato un attimo perché stavo al telefono andavo contro il codice della strada poi ti sono fermato di latte se non lo fai i selfie ma che posso fa per immediata niente che vuoi fa Mirko dopo un anno dopo un anno stiamo come prima che vuoi fa in modo che ve li fa famo un altro spot famo un altro spot azione azione il 14 luglio il giorno della presa della bastiglia noi ci prenderemo piazza del popolo ma partiremo dai fori imperiali alle 18 quando l'aria rinfresca spettacoli musica ricchi premi champagne no 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 niente ricchi premi niente cotiglione ma champagne nemmeno champagne ma ci batteremo per per i diritti dei disabili aie delle persone con disabilità e vabbè quanto sei pignolo e siamo pure pignoli vabbè per i diritti delle persone con disabilità tutte le disabilità pura la tua mia pura la mia alla stragrande alla stragrandissima pace anteriore pace anteriore e' stato proprio una sbista stavo il telefono i selfie non ci si capisce più cazzo qua dei giorni non lo faccio più grazie che mi ha perdonato grazie perdonata una parola grossi se vediamo il 14 dai vengo stavolta non è aperta mia bella bella dai dai se vediamo la c'è mezza in gamba che è un bel amico ciao lascio manovra che vengo da questa macchina come se la fa la fiancata sta bolla è tace e 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 tace ciao ciao ciao